Bentornati nel canale Fulmicotone, siamo su Monopoli Go con questo nuovo video andremo a sbloccare nuove città e partiamo subito con sbloccare, pensiamoci a costruire questa città abbiamo qui di 320 milioni da spendere, però attenzione che si guardiamo prima il livello galleria patrimonio netto, buono, 275k, prossima ricompensa dadi, continuiamo quindi a migliorare spendiamo tutti sti soldi che tanto andranno a finire là, prima che ce li rubano con qualche capino in banca ci lasciamo fare l'ultimo miglioramento che costa 20 milioni e andiamo a consumare questi 150 tiri che abbiamo, vai con l'autoplay, così da accumulare anche un po' di banconote in previsione della prossima città intanto ci mettono dentro, l'avvocato non fa nulla, no, difatti perdiamo soldi, vai, andiamo avanti andiamo avanti a raccogliere tutte le banconote possibili, raggiungere 500 per sbloccare 475 dadi nel saluto eroico, mi sembra un'impresa un po' difficile, ci ritorneremo domani quindi andiamo siamo già a 4333, abbiamo quasi finito, andiamo a sbloccare adesso la città, ultimo giro a 10 bene, bene ragazzi, andiamo a sbloccare nuova città tabellone completato ci aspetta nuova città, luci di Tokyo luci di Tokyo qui presentiamo le luci di Tokyo, più 70 litri, 5 milioni e 8 per noi perfetto bellissima apposta era questa infatti da qui prenderemo proprio lo screen le luci di Tokyo quindi ragazzi abbiamo sbloccato la nuova zona aspettiamo che mi screena, ok abbiamo 70 litri ancora da fare vai con il x5 stazione per noi andiamo ancora avanti andremo anche a spendere tutte le banconote che abbiamo prima di chiudere il video così da evitare che ne li rubano dalla banca preferiamo anzi costruire continuiamo ad andare avanti mettiamo anche l'autoplego se andiamo anche più veloci via 6 tiri ancora stazione per noi distruzione la prendiamo tutto fabbrodo anche per 5 non beccato neanche scudo quindi 3 milioni e mezzo perfetto che dire si va avanti attruttosento capo stazione rapina in banca anello ragazzi 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 abbiamo preso comunque 10.000 e 2 va bene fermiamoci qua andiamo a costruire spendiamo i soldi rimasti ragazzi se lo siete ancora iscritti al canale vi invito ad iscrivervi e a lasciare un like non credo che infatti non bastano a superare la prossima città ma la sbloccheremo nel prossimo video il video finisce qua noi ci vediamo nel prossimo video bello a tutti bello a tutti Grazie a tutti.